Steph, cosa dobbiamo fare oggi? Non si può fare improvvisato, Fere! Cosa vuol dire improvvisato? In che senso? Li prepariamo sempre prima! Esattamente, questa volta invece li prendo a casa dal telefono durante il video, ti piace? Così, quindi non sappiamo né io né te cosa faremo oggi? Né quanti sono, esatto, sì! Ok, bene, sì, mi piace! E ragazzi, come va? Io sono Pierinichi! E io sono Steph e chiesto di come GTA V! E stiamo qui con un nuovissimo episodio del si può fare improvvisato, perché neanche noi sappiamo quello che andremo a fare, quindi sarà divertente farlo man mano che giochiamo! Sono gazzatissimo e per di più ho visto una cosa mentre facevamo l'intro! Cosa, cosa, cosa? Non so se riesco a fartelo vedere, però c'era, oh no, mi sa che è scomparso! C'era un dirigibile nel cielo, è la prima volta che l'ho visto nel server moddata online, ma era bellissimo! Sei pronta, Fere? Sì, prontissima, prontissima! Allora, ce l'ho chiesto tante, tante cose, però le voglio sperimentare, prima di tutto uno io! Allora, sali in macchina! Io dentro? Sì, sì! Ok! Devi guidare! Cado se io resto sdraiato? Vai! Mi sa di sì! Sì, sì! Malamente proprio però! Ma proprio ho capito! Vabbè, poi ti posso invertire! Ai, al mio braccio, Fere! No, ti dicevo, ma proprio malamente senza alcun dubbio, cioè appena ho accelerato ti ho visto volare via! Comunque ho imparato la tecnica del cadere, vuoi vedere? Sono migliorato molto, perché se tu cadi al momento giusto, fai molto più ridere! Dovrebbe succedere! Tipo... Guarda, eh! È un episodio serio questo, ok? Che dobbiamo fare tutto al momento! Aspetta, aspetta, guarda, eh! Se ti butti dall'alto, con un animale, ok? Puoi utilizzare il paracadute? Ah, beh, sì, l'ho letto anch'io quello! Sì, molto interessante! Andiamo subito a provarlo! Ok, però proviamo! Anche secondo me no! Perché col fatto che non potevo utilizzare le armi, secondo me, neanche il paracadute, però va provato! Non so esattamente che cos'è questo elicottero, non pensavo esistesse su GTA! Ma che accidenti è... Però è fighissimo! Eccolo! Te l'ho detto che c'era! Oh, finalmente! Oh, oh mio Dio! Allora, so che ci vorrei salire sopra, ma devo fare questo! Voglio esplodere! Boom! Oddio, può esplodere? Sì! Io pensavo fosse una di quelle cose tipo di GTA indistruttibili che rimangono lì! Siete disintegrate, sembrava corriandoli! Vabbè, giustamente perché ha fatto di tela! Ah, guarda, ce n'è già un altro, ok? Lì di fronte! 3, 2, 1, vai! Vai, vai, vai! Così almeno ti seguo! Ecco, io a te sono più lento! Non ho paracadute! No! Te lo dico già, non ho un paracadute! Però aspetta, non ce l'ho neanche io! Allora non... Virà malissimo! Quando vuoi, Fere! Vado, vado, vado! Io ti seguo! Ma che tuffo che mi hai fatto! Oddio, oddio, oddio! Niente, 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 niente! Allora ti vedo spiaccicarti! Addio, Fere! Addio, addio! Quindi... No, non fa! Gli animali non possono utilizzare le paracadute! Esatto! Che proprio gli animali non possono interagire con armi, paracaduti! Quindi con le cose con cui può interagire il player normale! Mi sembra anche comprensibile! Cioè non penso che un animale possa tirarsi un paracadute! Quindi mi sembra abbastanza giusto! Allora, vediamo un pochettino cosa potremmo fare adesso! Ok, questo è un po' complicato! Vediamo se farlo dopo! Ok, un animale che vive sulla terra può andare sott'acqua e non morire? Perché in effetti abbiamo visto che gli animali acquatici nella terra muoiono! Ma gli animali terrestri sott'acqua muore? Sì, ho capito! Da provare! Allora, secondo me muore! Perché penso che abbia il fiato esattamente come gli umani! Anche secondo me! Quindi lo provo a dire, lo provo a dire! Non ne sono così sicuro! Andiamo in acqua e scopriamolo! Sì, pronta a fare una notatina! Oggi sono il coyote degli esperimenti! Povero coyote che viene usato per qualsiasi esperimento! Allora, sei già sott'acqua? Sì, sì! Ok, che sembra? Stai bene? Si muove in modo troppo... Comunque allora, cammina nella sabbia! Ahà! Fa un po' su! Riva giù! Mi vedi? Allora, io sono morto! E sono entrato molto dopo di te, Fere! Magari il coyote sa respirare sott'acqua! Morto subito! Sì, sì, sì! Perfetto, sì, la mia stessa durata! Ok, quindi, gli animali sott'acqua muoiono e muoiono in un tempo normale! Perfetto! Giustamente, giustamente! Questo è per te, Fere! Sei pronta? Sì! Allora, ne abbiamo due a tema... Mi hai morsicato? Sì, perché ero pronta! Due a tema polizia! Ok! Allora, il primo è... Ammazza un po' di persone! Arriva ad avere la polizia e vedi se quando arriva la polizia ti spara! Ma ad animale? Sì! E come faccio da morsicandole? Basta morsicarle! Basta morsicarle, certo, certo! Aspetta, ci provo! E per quello dicevo che hai fatto la posta per te! Allora, il coyote so che morde e che fa pure parecchio male, a differenza degli altri animali, quindi però non so se funzionerà, ci provo! Ok! Hai steso la tia! Aspetta, aspetta! Non scappare che io non so correre bene! Facci sapere anche se inizio ad avere stelle di polizia, perché anche questa è una cosa interessante! L'ho incastrata qua, quindi ce la dovrei fare! È molto brutta questa cosa che sto facendo! Lei l'uccisa, Fere, l'uccisa! Non so se da coyote non capisci quando è una persona morta, ma lo è! Coin jump ogni tanto! Buongiorno, buongiorno! Sono stanco! Signora, vorrebbe conoscere il mio coyote? È molto carino, gli piacciono le carezze alla pancia? No, per niente, mi piace solo mordere! Scusami, scusami! No, signora, non abbia paura! È scappata, vai, c'è questa, questa, questa! Ok, continua! Non si fuma! Ha capito che non si fuma! Questa è la sua punizione perché sta fumando! Hai l'estesa, l'estesa, continua, Fere! Stelle di polizia? Zero! Davvero? Zero! C'è già la seconda persona che amazzi, eh? Perché infatti l'altro si può fare da animale! Puoi avere stelle di polizia o ti viene giustificato ogni crimine! La polizia! Feremo, non ti si è accorta di avere le stelle di polizia? No, non ce li ho! Tu non hai capito che non ce li ho! In ogni caso, la polizia arriva e sparano! Mi hanno ucciso! Te li trasportati velocemente da me perché ne abbiamo un altro che ha a che fare con la polizia e approfitto di questa pattuglia che è qua! Ok, perfetto, arrivo! Allora, praticamente, quindi, allora, gli animali possono essere uccisi dai poliziotti e gli animali possono avere stelle di polizia! Adesso però ce n'è un'altra! Se io mi abbasso, quando provoco la polizia, quindi quando faccio così... Esatto! Aspetta! Aspetta, 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 perché potrebbe essere qualche strana coincidenza! Allora, facciamoli... Non è una coincidenza! Allora, non si stanno più arrabbiando! Polizia! Perché si è svenuto una volta! Prova a tuffere! Ecco qua! Ok! Ok, veniamo! Aspetta! Aspetta! Allora, ho tre stelline di polizia in questo momento! Io ho un bug e la vedo rialzarsi, però è normale! Lei in realtà sta rimanendo coricata! Ok, no, ti stanno sparando, giusto? Sto sparando, mi sto uccidendo! Sto per morire! Ok, però sta... Vedi che scappa invece che... Perché scappa? Non lo so! Ahia, mi hanno investito! E siamo arrivati al momento del mio si può fare preferito! Ovvero, quando si fanno esplodere le cose! E questa volta faremo... Si può far esplodere questo bellissimo aereo di linea? Esattamente! Lo spero! Ho avuto provato a far esplodere lo yacht e questa volta proviamo con un aereo di linea! Allora, potenzialmente io sono per il sì! Allora, io però ti dico già che voglio provare questo che abbiamo messo noi e anche quelli dell'aeroporto! Perché lo yacht era messo dal gioco e quindi non esplode per questo motivo! Quello dell'aeroporto non si può! Dici? Sicuro? Sicuro, sicuro! Sì, sì, non si può, non si può! Sono curioso però di questo e di quello un po' più piccolo! Perché questo è davvero gigantesco! Ne ho anche uno più piccolo! Allora, Fede! Hai l'onore, vai! Vado! Ok! E direi che esplode e si smonta pure! Guarda il muso! Guarda! Ah, tu non lo vedi? Io lo vedo smontato! Guarda! Eh, vabbè! Da me è volato via! Da me è volato via! Ah, sì! Quindi siamo lì! Quindi se continuiamo può esplodere ancora di più! Cioè funziona! Certo che può esplodere! Incredibile! Vedi almeno questo è realistico! Dai, questo ci sta! Beh, sì! Ma infatti anche lo yacht doveva esplodere! Eh, però ha fatto esplodere le ali, Fede! Ah, le ho viste adesso! Io ce l'ho sopra! E allora che le ali si possono staccare! Che bello! Che bello! Bello, 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 bello! Allora, vediamo! Oh, oh! Scroll un po' vado a cercare un si può fare che non ha neanche un like! Ok? Perché ho preso un po' di quelli con tanti likes! Adesso vado a cercarne uno o due che hanno pochi likes! O addirittura zero! Ci sta! Facciamo gli ultimi e ci fermiamo! Abbiamo trovato un si può fare che ci chiedeva se potevamo entrare con gli animali nella metro! Ok! Molto bellino! Però sembra che la metro non passi! Non so perché! Sono tipo fermo da due minuti e mezzo, tre minuti! E non passa! Eh! In mio caso, ciao Fede! Ciao! Come stai? Perché ti sei trasformato proprio in un maialino? Eh beh, che bellissimo! Non mi sono... Ma non è... Allora, dovevi trasformarti in un cagnolino! Perché è più probabile che un cagnolino possa entrare in una metro! Invece un maiale quando mai può entrare? Non ha senso! Perché mai? Perché non posso entrare nelle metro, Fede? Perché i maialini devono stare nelle fattorie e non nelle metro! Non è vero! Comunque, allora, abbiamo altre due cose da testare! Ok! Una me la sono dimenticata, però la ritroverò, te lo giuro! Ok, ottimo, ottimo! L'altra è... Trasformandosi in una scimmia, ci si può arrabbicare negli alberi? Non credo! Ma chi l'ha detta questa cosa? Però bisogna provarla! Ma l'hai pensata tu? No, no, un consolino! Vabbè, è geniale! Non l'avrei mai mai pensata! Ci proviamo? Sì! Io nel mentre continuo a dare un occhio verso la metro, ma sembra proprio che non passi! Hai visto? Cosa? Il maiale può attaccare, non pensavo! Come può attaccare? Ti ho ucciso! Sì, mi hai totalmente ucciso! Ma perché il maiale è così cattivo? Vabbè, oltre! Non ha senso il maiale è assassino! No, però aspetta, non è assassino! Se lo fai arrabbiare, mi sembra giusto che ti morda! È giustissimo! Vabbè, i bug, dai! Ma che cosa sta succedendo? Ciao, Cosolini! Come stasce? Sono Stef la scimmietta! Che poi sei troppo carino e la vorrei troppo una scimmietta! La vorrei troppo! Vieni che ti abbraccia! Vieni, vieni, vieni! Ah, no, ti volevo dare un pugno, ma non posso! Per fortuna, no, piano, piano, non fare quell'aspetto minaccioso! Che oltretutto le scimmiette... Ferre, mi stai guardando male! Sono parecchio dispettose, quindi è probabile che ti morsichi! Ferre, guardami male! Aspetta, ti guardo male! Ecco, guardiamoci male insieme! Ciao, Ferre! Non so perché flutto in aria, però guardami male, Ferre! Però quella arrampicata è stata bella! Guardami! Non funziona negli alberi, ma funziona almeno nelle recinzioni, ok? È già qualcosa! E metà e metà, metà e metà! Allora, ok, questo è fatto! L'ultima cosa che facciamo è... Un consolino c'è scritto che è andato dove c'era il bagno chimico, quello che abbiamo buggato, ok? Ok, sì, sì, mi ricordo! E ha buggato il bagno chimico con una cosa diversa dagli esplosivi! Nel suo caso ha utilizzato una smart, ha colpito il bagno chimico ed è riuscito a spostarlo! Ah, vieni qua! Quindi ci ha proposto, provate a buggare il bagno chimico non con un esplosivo ma con qualcos'altro! Vieni, vieni, perché io qui di fronte ho già visto ben due bagni chimici, quindi sì, ci proviamo subito! Oh mio Dio, li ho visti! E lo proviamo qua, così vediamo, anche se in altre location si buggano ugualmente! Mi sembra giusto provare! Mi sembra giusto, mi sembra giusto! Mi sembra giusto! Aggiungiamo delle cose in più! Certo, certo! Dato che ci siamo, si prova! Carro armato contro bagno chimico! E siccome Steph e Ferinichi... No, no, non sparare! Non devo sparare! No, mi sono solo su, dicevo, siccome Steph e Ferinichi devono sempre esagerare, anziché con la smart proviamo con il cararmato! Poi male che vada proviamo anche con la macchina! Allora, due modi di provare! Per il primo, provi con un colpo di canna! Così, esatto! C'è un problemino che non riesco a muovermi! Perché? Non lo so, non vanno avanti né indietro, posso solo fare questo! Aia! Per il primo provo a colpirlo! Vai! Per gli altri due invece, investendo! Ok, ottimo, vai! Due, uno... Ok, è volato il bagno! Sì, ma non c'è il bug! Non c'è il bug! Non c'è il bug! Cioè, mi stai dicendo che con quel bagno abbiamo trovato l'unico bagno baggato in tutta GTA! Non lo so, Fede! Non ne ho idea! Però guarda! È un bagno normalissimo! Questo si apre pure! Che bel bagno! Siamo arrivati, Fede! Siamo arrivati! Andiamo, dai! Perché la macchina è piena di neve in pieno maggio? Perché? Perché? È caduta un po' di neve all'improvviso! Che ti devo dire? No, non è possibile questa cosa! Non è possibile! Ma si pazza! C'è un sacco di gente che la riprendeva col telefono perché era appunto assurdo e tu non ti sei accorta! Probabilmente è stata una tua allucinazione, mi dispiace di te! Allora, perché vedi anche tu la neve nella macchina? Perché adesso l'hai messa a tu finta, mi sembra giusto! Non è vero! Come arriviamo dall'altra parte? Allora, è a piedi! Come a piedi? Eh sì, ci tocca! Come a piedi? Ma dai! Allora, la mia teoria è che essendo in single player, ok? Non ci sia lo stesso bug perché secondo me questo qua viene considerato un server in single player dove riusciamo ad entrare in due, ok? Ok Quindi secondo me per quello non risultava bugato, non perché è l'unico bugato Sì, 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 proviamo a farlo esplodere e vediamo Esatto, vado Dai, vediamo la conferma, vai Allora, voglio utilizzare questa che è un'arma bellissima, il lanciagranate lo adoro Pem! No! È l'unico bugato davvero! È l'unico bagno bugato! Ma io non ci credo, no, io non ci credo Te l'avevo detto, cioè abbiamo avuto la fortuna di trovare l'unico Quante probabilità c'erano? Ma non lo so, non lo so Direi che ci bisogna fermare così perché questo video fatto ci sta però ovviamente nei commenti e con il sondaggio Se vi è piaciuto questo si può fare improvvisato A me ha divertito parecchio, dai Sì, ci sta, ogni tanto provarli un po' così a caso ci sta E in questo server davvero, i si può fare sono infiniti Quindi è davvero semplice farne Perché si può provare davvero di tutto e di più Ovviamente continuate nei commenti a consigliarcene tanti tantissimi Mi raccomando, usate la fantasia per proporci le cose più strane Noi cercheremo tra tutti i commenti e selezioneremo quelli che più ci divertono e quelli che più ci ispirano Ci fermiamo così, tanti likes per supportare questa serie, è una serie Fere? Si chiama serie? Boh, no Supportare questa cosa e ci vediamo domani Perché se ne scusessi c'è già scelteci un like E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerarvi di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Ciao